Io sono un professore degli Stati Uniti, un ingegnere ambientale, mi occupo di acqua urbana e soprattutto la gestione di acqua urbana tramite una serie di tecnologie che noi chiamiamo infrastruttura verde, green infrastructure. Credo che questa sia una forma di tecnologia e di gestione di acqua urbana interessante per quelli che vengono qua a Urban Promo, perché è un intervento che diminuisce la quantità di acqua piovana proveniente dalle strade durante gli eventi meteorologici, durante le condizioni normali, ma anche durante gli eventi estremi. Poi gli spazi verdi dentro la città portano anche altri benefici, quelli che noi chiamiamo servizi ecosistemici. E quindi io parlerò un po' di come per me la resilienza vuole dire l'uso multifunzionale dell'acqua per portare risultati sostenibili alle città.